Allora, un altro momento con Alessandro Verdecchia di Toscano, buonasera Alessandro, grazie di essere venuto anche a te, grazie a voi dell'ospitalità, grazie a Enrico che ci ha dedicato questa splendida serata, hai visto fare un tour poc'anzi delle cantine, bellissime, interessanti, veramente notevoli, queste sono state, erano già molto belle, la prima volta che le rischi sono state nuovamente ristrutturate, quindi le stai vedendo al loro massimo, si vede l'impegno della famiglia, si vede proprio insomma investimenti, quindi la grande dedizione che la famiglia mette in questa attività, assolutamente. Bene, allora Alessandro, io non ti rubo altro tempo perché ci stanno chiamando per la giornata, quindi grazie a essere con noi e anche con te una giornata. Grazie a voi e grazie a Enrico.